Ci troviamo nella via Porta di Mare a Sciacca dove questa mattina sono state rimosse le barriere che erano state collocate due giorni fa e sono state collocate delle fioriere. Siamo con il dirigente del settore dei lavori pubblici del comune di Sciacca Aldo Misuraga che è stato l'artefice di questa iniziativa. Archetto Misuraga partiamo dalle ragioni che l'hanno indotta a compiere questa scelta. Le ragioni sono state di urgenza perché si è notato e ci sono anche testimoni cittadini qua residenti un assembramento di giovani che tra l'altro anche con rischio di alcol si seguono sulla sedia, sul parapetto perché è un parapetto in effetti. E fra di loro si spintonano, li ho visti io personalmente, si spintonano, ci giocano, insomma con un rischio caduta evidente, cosa che prima magari non succedeva. Quello mi ha portato anche coraggiosamente, devo dire, immediatamente a interdire la zona, sicuramente non con l'intenzione di lasciare le transenne per mesi, e trovare urgentemente una soluzione che poteva essere da un lato assicurare un minimo di sicurezza e dall'altro poter intervenire su un bene che è un bene culturale perché la sovrintendenza non ci può consentire né di fare ringherine né di fare altri interventi se non fatti secondo dei criteri che sono attenenti alle regole dei beni culturali. E allora l'unica maniera era per ora, temporaneamente, mettere immediatamente le transenne per garantire la sicurezza e per evitare che ci sia qualche morto. Questa è stata la prima verità morale che mi ha portato a collocare quelle bruttissime transenne, lo devo dire, certo. E' ovvio che l'intenzione, ripeto, non era quella di lasciarle per mesi, neanche per settimane, ma di trovare una soluzione. La soluzione che oggi abbiamo trovato è quella che può essere la più immediata, tra l'altro, di collocare delle fioriere che abbelliscono, tra l'altro, ma nello stesso tempo mi rialzano leggermente la veduta, quindi l'affaccio sul panorama, e nello stesso tempo mi consentono di interdire la seduta sul parapetto. Senta, ma la sua è stata una scelta autonoma? Lei non ha informato di questo l'amministrazione? Perché poi, come lei sa, si è innescata pure una certa polemica su questo. Guardi, io non voglio entrare mai nel merito di queste cose, perché noi siamo tenuti a un rigore di tipo professionale per i ruoli che abbiamo, quindi nessuna polemica possiamo fare, prima di tutto col sindaco, ma poi anche con i cittadini, figuriamoci. E' ovvio che quando io ho mandato una nota di segnalazione di urgenza per interdire lo spazio, per conoscenza era stata mandata a tutti. Adesso qual è la prospettiva? Rimarranno queste fioriere? Naturalmente adesso c'è anche il suo appello a chi frequenta questa zona a saperle custodire. Allora, diciamo che è una prima fase, è ovvio che ancora dobbiamo collocarne delle altre, dobbiamo guardare attentamente se ci sono ancora punti deboli da mettere in sicurezza. C'è stata una richiesta pressante, devo dire, su di me e da parte di tutti per rimuoverle immediatamente, quindi questo ci porta ad accelerare. E' ovvio che se noi lo possiamo fare, lo facciamo, ci mancherebbe altro. E ovviamente stiamo anche cercando di integrare altre soluzioni, altre fioriere, che non possono essere l'unica soluzione. Compresa quella, ritengo, anche di un'ordinanza che possa consentire una segnaletica di divieto di seduta e di controllo continuo anche da parte degli addetti lavori.